tradizioni importanti non troppo vicini ragazzi che per caporanno a caporanno non è capodanno caporanno tradizionale vi do auguri ci abbiamo ci hai rimesso l'emiliano nazionale e scrocchia zip e oggi facciamo paghera doppia il nuovo gioco siamo gente qui ci sono gente elegante gli altri sono andati a casa se lo prendono tutto i colleghi chi invece lavora vuote perché l'eleganza dice remember the face no remember the face nel 2017 paghi mezza piatta il conto e paghi mezza piatta l'eleganza è importante e buon caporanno ci hai rimesso quest'anno assolutamente no però non c'è se vuoi rimettere le mance no se si vuole rimettere no come non c'è poi niente